Perchè? Questa è la mia casa, è come sono io, se tu la vuoi trovare, confina col cuore, questa è la mia vita, e che ci posso fare, se tu la vuoi sentire? Ascolto un'emozione, questa è la mia gente, ci sei anche tu, stasera un solo suono, e sarai uno di noi, uno di noi, di anima vera. I ragazzi col cuore, ricorda che per fare tutto questo non bastiamo solo noi, è tutto così vero che sembra un'utopia. Perchè? 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 Faccio un film che dura un giorno, una settimana, a volte solo poche ore, per un attore come me, a volte è facile interpretare. Un mondo particolare, senza televisore, svegliarsi e salutare, e poi su un palco illuminato, provare e riprovare. Fino a quando poi nasce il sole, sono brividi speciali, sentire quella sensazione, guardare insieme a te fotografie di una stagione. Sono brividi speciali, quando tu stai con me, è un mestiere questa nostra passione, Un'emozione nei miei occhi stasera, nelle parole di una nostra canzone. Da cantare, gridare, cantare, gridare, è un mestiere questa nostra passione. E' un'emozione nei miei occhi stasera, nelle parole di una nostra canzone. Da cantare, gridare, cantare, gridare. E' un mestiere questa nostra passione, un'emozione nei miei occhi stasera, Una lacrima che bagna un sorriso, da baciare, cullare, toccare, salvare. E' un mestiere questa nostra passione, è un'emozione nei miei occhi stasera.